Passione, fatica, il nostro terreno, le nostre serre, uniche per posizione geografica e grandezza. Solo con questi ingredienti può nascere il Basilico Genovese DOP della Società Agricola Calcagno, fornitore ufficiale del basilico per il Campionato Mondiale di Pesto. Tutta la nostra tradizione ed esperienza, direttamente dal produttore al consumatore, dalle colline cellesi al vostro banco, nel vostro ristorante, sulla vostra tavola. Basilico Genovese DOP della Società Agricola Calcagno